Ok ragazzi, allora, questo discorso è finito in modo brusco per vedere l'errore tecnico. Stiamo cercando di entrare lì dentro. E non sta funzionando minimamente. Aiuto, tutti i tifuocati ci sono. Come si fa? Devo prendere quella cesta. Spaccati, 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 spaccati. Veloce! No, non ci riesco. No, no, no! No! Ok. Allora, idea migliore, recupero un po' di vite e ci vediamo fra poco. Ok, ci siamo. Spacco la cesta. No, ma le cose andranno tutte a fuoco. Ok. Ok. Facciamo così, va? Sì, dai, così ce la possiamo fare, ragazzi. Però se mi arrivi davanti così, no. Mi sparano da sopra qui qua. Dai! Dai! Uno! Dai l'altro! Nuovi! Nuovi! Sì, abbiamo finito, ragazzi! Vai! Ma che è sta roba? Io pensavo di trovarci l'uovo del drago! Non ste cose qui! Generatore di mosche. E che me ne faccio di sto coso? Vabbè, torno a casa e vedremo. Ok, ragazzi, allora. Abbiamo sto coso qui. Non so cosa serva, per questo lo porto lontano da casa. Allora, siamo arrivati lì a casa. Però voglio vedere un attimo che cosa serve a sto coso. Uno spawn di maiale. È uno spawn di maiale! No! È uno spawn di maiale! Che cosa me ne faccio? Non lo so, ragazzi. Allora, io dell'unt farm non ci ho capito un cavolo. Pensavo che ci fosse il coso del... Che per spawn? Pensavo che ci fosse il coso del drago lì. L'uovo del drago, ragazzi. Ma non c'era. Quindi non ci ho capito un cavolo. Però abbiamo sconfitto Ervan e conquistato lo spawner super difficile. Quindi posso dire che hunt farm è terminato. Quindi ciao, ragazzi. Nel prossimo video! Ciao!